Nella settima giornata del Girone F, impegno in trasferta per una delle due capoliste, il notaresco parte per le Marche per affrontare il Tolentino, cercare di difendere quel primo posto in coabitazione con la Re Canatese. I Cremisi, battuti dall'Avezzano al De Marzia, hanno inanellato tanti pareggi, 4 su 6 incontri e 3 di questi tra le mura amiche. Insomma, per la banda Vagnoni, che invece viaggia col vento in poppa un'occasione per conservare la Vette e continuare il filotto. Dalla sconfitta all'esordio in poi, 5 su 5, una serie di vittorie impressionante per una squadra che invece non ha mai visto uscire l'X in schedina e che ha mandato in rete ben otto giocatori, il record del Girone. I Rosso-Blu, a proposito di Avezzano, chiederanno anche un favore ai Biancoverdi, anche loro impegnati in trasferta a Re Canati. Sfida particolare per tanti risvolti, il ritorno di Gianni Paris è ormai storia nota, ma l'incrocio con l'ex tecnico Federico Giampaolo, che ha guidato i Biancoverdi fino a poco tempo fa, sarà una particolarità per due formazioni che hanno ambizioni differenti di classifica. Ma la squadra di Baccaro è in crescita e lo testimoniano i due successi consecutivi che hanno dato respiro. Peraltro al Tubaldi la Re Canatense si è già fermata proprio per mano del notaresco. Impegno in Romagna invece per il Giulianova nel rinnovato stadio Calbi, nuovo manto erboso per l'impianto, con il sindaco Gennari e il presidente Mancini a testarlo a poche ore dal fischio d'inizio. Il Cattolica finora non ha mai vinto, il Giulianova deve tornare a farlo dopo quattro settimane di astinenza e con la rabbia della Befa subita la settimana scorsa al Fadini. Impegno all'Aragona per la Vastesi in un match che sembra quasi uno scioglilingua col Vasto Girardi, formazione neopromossa ma pericolosissima. Unica imbattuta del raggruppamento, la squadra molisana si è già presa lo scalpo del notaresco e gioca con uguale disinvoltura anche lontano dalle Civitelle. Dall'altra parte Amelia ha ritrovato un 11 in salute, due successi consecutivi con San Giustese e Jesina, quando i biancorossi saranno anche impermeabili dietro, con il potenziale offensivo a disposizione possono puntare anche ai piani altissimi della graduatoria. Peraltro l'Aragona quest'anno non ha mai tradito sette punti su nove raccolti in campionato. Dopo il cambio in panchina di lunedì, con Paolo Rachini per Massimo Epifani, Alpineto serve assolutamente un successo. Troppo lento ancora il passo dei bianco-azzurri che avevano illuso dopo l'1-0 col campo basso, ma hanno dovuto di nuovo fermarsi nel derby del Savini di sei giorni fa. Il successo in settimana in Coppa Italia con l'Ostia Mare è stato corroborante, ma certamente non può bastare. La Jesina sulla carta, è avversario non impossibile. Infine il Chieti, impegnato a Montegiorgio dopo il pari interno con il Cattolica, per i neroverdi l'occasione di ritrovare l'abbrivio giusto per stazionare ancora nelle parti nobili della classifica, occasione anche per provare a scavalcare i rivali di domani e aumentare le certezze di un gruppo solido e ambizioso.